Domani a Roma consiglio direttivo di Alis, il presidente Guido Grimaldi traccia l'eccezionale bilancio di Letta Expo e illustra gli appuntamenti futuri dell'associazione. I premier draghi in Algeria per sostituire un terzo del gas russo, oggi la firma dell'accordo per 9 miliardi di metri cubi di gas in più all'anno. Testa a testa nei sondaggi per Eliseo tra il presidente uscente Macron e la leader della destra Le Pen, Letta con i populisti l'Europa va in frantumi, Salvini twitta l'amica Le Pen, orgogliosi del tuo coraggio. Riparte l'offensiva russa nel Donbass, il comandante ceceno Kadirov, arriveremo fino a Kiev, Zelensky, a Mario Pol decine di migliaia di morti, Londra accusa, Mosca usa armi al fosforo. Il virus arretra ma allarme long covid, l'OMS 1 su 4 ha sintomi a un mese dalla guarigione, Sileri, curva in discesa ma possibile recrudescenza in autunno.